Il centro comunale di raccolta di via Ettore Maiorana a Barcellona presso l'area industriale di Sant'Andrea sarà riaperto anche martedì e giovedì pomeriggio e sabato mattina. Si è appreso dalla pagina facebook della giunta comunale dove è evidenziata una dichiarazione dell'assessore territorio ed ambiente Tommaso Pino. Da giovedì prossimo il CCR sarà aperto anche nei pomeriggi del martedì e del giovedì e il sabato mattina. In questo momento di emergenza ma anche ovviamente in condizioni di normalità si invita i cittadini a conferire rifiuti differenziati e speciali presso tale struttura. L'assessore ha ricordato anche che le agevolazioni previste per tale conferimento si possono sommare allo sconto del 30 per cento per i single sulla prima casa e per le famiglie sulla seconda abitazione. Inoltre sono allo studio ulteriori agevolazioni che non verranno azzerate alla fine dell'anno. Il caso sollevato la settimana scorsa dai consiglieri comunali del gruppo Avanti Confiducia, Antonio Mamì e Raffaella Campo è chiuso. Avevano denunciato che mancando la delibera di giunta per integrare l'orario dei dipendenti il centro fosse rimasto chiuso. Avevano evidenziato la totale mancanza di programmazione da parte dell'amministrazione con il conseguente funzionamento a singhiozzo di un servizio essenziale per la città. Non solo ma hanno ricordato come non fosse stato trovato il tempo di deliberare e far funzionare l'unico strumento che avrebbe consentito una parziale soluzione del problema. I due consiglieri hanno proposto anche l'apertura immediata e per l'intera giornata del CCR accompagnata da una fitta campagna di informazione per spiegare i vantaggi del conferimento.